buongiorno a tutti ecco voi un'altra ricetta un po sfiziosa sarebbe la carbonara sbagliata con i gamberoni ci serve un uovo non solo un rosso in questo caso metterò le mezze maniche della rumo sale e pepe metterò metà pecorino e metà parmigiano ora mettiamo un filo d'olio in padella il nostro spicchio d'aglio lo facciamo insaporire mettiamo i nostri gamberi giustamente non è come il guanciale ma vanno aiutati a acquistare sapore e lo sfumo anche con un po di brutto o succo di limone o del vino bianco procedo a mantecare l'uovo con metà grana e metà cacio metto pepe abbondante si deve proprio sentire tanto il granello del pepe sotto al dente mettiamo a cucinare la nostra pasta e prepariamoci con i nostri famosi mestoloni di acqua di cottura per creare la nostra crema creiamo prima appunto la nostra cremosità con l'amito della pasta e facciamo saltare con i gamberi in maniera che il gusto penetri nella pasta a fiamma spenta aggiungiamo il nostro uovo ed ecco la nostra carbonara sbagliata molto saporita durante l'impiattamento io posso solo che augurarvi buon appetito e di sperimentare sempre in cucina qualcosa di nuovo un bacione ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.